Ecco, la famiglia è partita e adesso sta sciamando, questo è il loro ciclo naturale. Guardate, ecco nell'aria lo sciame, guardate, vedete, adesso siamo qui in mezzo a questo nuvolo di api. Siamo arrivati, adesso abbiamo preso l'arnia pronta da mettere dentro le api, adesso le mettiamo dentro. Aspettiamo ancora un attimino che loro si appoggiano e sicuramente entreranno senza difficoltà. Stiamo usando un'arnia da sciame da sei telaini, ok? Cercate di prendere un'abbastanza leggera perché le api si mettono sempre in posti molto scomodi. Adesso le abbiamo messe subito dentro, in breve tempo avranno tutte quante qui. Vedete? Con molta semplicità raggiungono la loro regina, ma non dovete mai avere paura. Però c'è anche un particolare, non dovete mai mettere addosso creme e profumi, perché sennò possono infastidire proprio le api sotto questo aspetto, ok? Quindi la mano è sempre libera. Ricordate, ogni posto è sempre ideale per le api, se c'è la cubatura giusta, quindi adesso loro si appoggiavano qui perché sono appena uscite dall'arnia, ma hanno già trovato un posto dove si dovevano trasferire, va bene? Tenete a mente che la loro cubatura è sempre intorno ai 30x40x60, più o meno, una cubatura ideale per la loro vita, va bene? Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Grazie a tutti.